buongiorno edizione speciale tg007 tutti i pazzi per lo spinner mamma è restata per aver rubato lo spinner al figlio buongiorno signora lei è un arresto come mai ma lei chi è è una polizia mi fai a vedere i documenti no non è vero certo che è vero facciamo con te non c'è niente andiamo andiamo appena aperto centro medico antistress se guardi ci vuole spinner terapia questo dottore mi sa che sei un po stressata è vero dottore ma io guarisco certo ma io ho il rimedio per lei cos'è dottore spinner spinner ho paura dottore cosa è che magia sto già meglio sto meglio sto meglio sto molto meglio spinner esauriti nel negozio e idicole buongiorno a tutti ci vediamo all'edizione alle 7 di sera come sono andato che stupidati che bello spinner che buongiorno a tutti che buongiorno a tutti Grazie a tutti.